Ben tornati a Una Mela al Giorno. Siamo ancora nel pieno della trasmissione. Stavolta parliamo di una data che si avvicina, del 28 febbraio, che sta a significare il ritorno della giornata mondiale delle malattie rare per richiamare l'attenzione su quelli che sono i bisogni di una comunità che attualmente conta almeno 300 milioni di persone del mondo. Non lo farò da sola, lo farò insieme a Enrico Orzes, giornalista di Omar, l'osservatorio di malattie rare. Enrico è in collegamento con noi. Buonasera. Grazie per l'invito oggi. Ecco, non l'abbiamo sentita per un secondo neanche. Adesso ci siamo. Buonasera Enrico di nuovo. Allora, dicevamo, 28 febbraio è una giornata molto importante. Cerchiamo di fare un attimo chiarezza su quelle che sono, per quanto si può, ovviamente le malattie rare nel mondo. Quali sono le diagnosi? Qual è lo scenario che ci troviamo di fronte? Innanzitutto grazie per questa opportunità di concentrare l'attenzione su una tematica importante come quella appunto delle malattie rare. La giornata dedicata alle malattie rare è un evento importante che ci aiuta a ricordare che nel mondo circa 8.000 sono le malattie rare. Nel nostro paese abbiamo quasi 2 milioni di persone che convivono con questo problema. E l'osservatorio malattie rare, una testata scientifico divulgativa da più di 10 anni ovviamente impegnata nel promuovere la formazione e l'informazione sulle malattie e sui tumori rari, intende ovviamente continuare a seguire ovviamente questo argomento con la massima attenzione e lo sta facendo proprio anche in prossimità della giornata che si celebrerà il 28 di febbraio. Secondo quello che è il vostro osservatorio, quali sono le forze in gioco per andare a individuare queste malattie rare? Come riusciamo effettivamente ad affrontare questo problema? Personalmente ritengo che la parola chiave, tanto ovviamente da un punto di vista più normativo quanto da un punto di vista squisitamente clinico, sia la multidisciplinarietà. Perché il modo migliore per affrontare le malattie rare è proprio l'approccio multidisciplinare. Quindi per prendere in carico una persona con una malattia rara servono professionisti di diverse discipline che intervengono, ovviamente dialogano tra loro, creano un team specializzato appunto per favorire il percorso dei pazienti. E altrettanto a livello normativo serve un dialogo bilaterale tra le istituzioni, le aziende, il mondo della ricerca e le associazioni dei pazienti che sono ovviamente molto importanti e rappresentative. Questo è quello poi che adesso a breve parleremo della situazione italiana, ma si sente molto parlare di collaborazione ovviamente con quella che è l'Unione Europea. A livello europeo c'è possibilità di fare rete rispetto a questo argomento? C'è possibilità e già si sta lavorando moltissimo. Esistono le reti di riferimento europee che offrono appunto la possibilità ai pazienti di essere presi in carico in maniera univoca ovviamente a seconda, a differenza anche delle zone di provenienza. E' proprio importante per le malattie rare, per i numeri delle malattie rare appunto che vi sia una presa in carico che va oltre i confini nazionali. Per questi percorsi devono poter guardare ovviamente anche a centri di riferimento che non sempre si trovano ovviamente sul territorio nazionale e per questo è necessario favorire il collegamento tra questi centri, perché se anche ovviamente è il paziente che deve spostarsi, quello che resta fondamentale è garantirgli la possibilità di farlo senza ovviamente difficoltà. E quindi ci sono progetti che riuniscono i Paesi membri e che si occupano anche di finanziare comunque la ricerca? Assolutamente sì, ci sono dei progetti e soprattutto le reti di riferimento europeo, le ERN, sono degli organismi molto importanti e queste reti ovviamente valgono tanto per le malattie rare quanto anche per i tumori rari che sono un'altra problematica di grande rilevanza, perché anche in questo caso parliamo di circa un milione di persone nel nostro Paese e proprio per favorire il percorso dei pazienti con tumori rari è necessario appunto arrivare alla formulazione di quelli che si chiamano PDTA, percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, dove dalla diagnosi al trattamento la persona viene adeguatamente presa in carico dagli specialisti. Per quanto riguarda quella che invece è la prevenzione delle malattie rare, noi ci possiamo dire in Italia un Paese all'avanguardia rispetto ovviamente allo scenario europeo, ma anche a quello mondiale, abbiamo noi forse un percorso di eccellenza rispetto a questo, una percentuale? Assolutamente l'Italia è un Paese che sta compiendo grandi passi avanti e lo dimostra anche l'approvazione della legge 167 del 2016 sullo screening neonatale, una legge importantissima, osservatorio o malattie rare si è molto spesa appunto per giungere alla formulazione di questa legge, una legge che permette con un unico dosaggio di andare a ricercare 40 possibili malattie metaboliche e la possibilità appunto di formulare delle diagnosi o comunque di avere delle indicazioni diagnostiche fin da subito, fin dai primi giorni dopo la nascita del bambino, è importante proprio per inserirlo in un percorso che ovviamente prevede la miglior presa in carico, anche laddove per lo screening neonatale il trattamento specifico ci deve essere, però è importante appunto favorire, anticipare la diagnosi perché questo trattamento possa essere erogato nel più breve tempo possibile. Quindi anticipare ovviamente la diagnosi ma soprattutto forse la sfida complicata è anche quella di avere una normativa, di differenziare anche questa normativa dedicata a quelle che sono le malattie rare, per questo esistono tantissime associazioni che si occupano del caso, quanto sono importanti le associazioni per le istituzioni e quanto ovviamente la collaborazione tra le due? Le associazioni dei pazienti sono davvero molto importanti perché riuniscono persone appunto con una condizione rara, permettono a queste persone di sentirsi meno sole, meno isolate e non svolgono solamente un ruolo di servizio, hanno anche un importante ruolo di informazione di quelli che sono ovviamente i pazienti, in primis anche dei loro familiari, quindi le associazioni dei pazienti sono il primo riferimento appunto per un dialogo efficace e serrato con le istituzioni perché possono far arrivare appunto i bisogni dei pazienti direttamente alle orecchie di chi deve garantire un aggiornamento anche delle normative, della normativa anche sulle malattie rare. Certo, prima Orzes ha parlato di diagnosi, quindi di diagnosi precoce, di quanto effettivamente è importante quando si parla di malattie rare. Screening magari dedicati potrebbero essere la soluzione, lei cosa ne pensa, cosa può dirci al riguardo? Sicuramente sì, i protocolli di screening neonatale di cui abbiamo parlato sono sicuramente importanti, specie per alcune malattie che necessitano di un intervento particolarmente precoce, però per le malattie rare la parola chiave è proprio diagnosi precoce, quindi anche laddove non c'è uno screening è importante che comunque ci sia il sospetto clinico anche nel medico di famiglia, nel medico di base di fronte a certi sintomi e un dialogo o comunque la possibilità di riferirsi a uno specialista che in questo caso può prendere in carico il paziente. Quindi è importante promuovere la formazione e l'informazione come dicevo prima sulle malattie rare proprio perché anche di fronte a dei sintomi generici possa nascere sempre il sospetto e possa esserci la possibilità di confrontarsi con chi ha un'esperienza e ovviamente vive la gestione di questa malattia. Allora parliamo, poi ci concentriamo effettivamente su una malattia rara nello specifico, però prima di farlo piano nazionale di ripresa e resilienza, come e quando verranno distribuite, se esistono le risorse economiche dedicate alla malattia rara, è stato previsto qualcosa a riguardo? Noi ci auguriamo che questo succeda molto presto, ovviamente i fondi per le malattie rare devono arrivare anche proprio per la predisposizione di questi percorsi. Sicuramente è stata importante l'approvazione del testo unico sulle malattie rare che istituisce un fondo di solidarietà e soprattutto permette attraverso la formulazione di diversi articoli che è una più uniforme presa in carico diagnostico-terapeutica dei pazienti e una miglior disciplina di distribuzione appunto delle risorse a sostegno della ricerca. Quindi speriamo che questo sia un primo passo avanti per poi permettere appunto di proseguire questo cammino così importante per i malattie rare. Ecco, dicevo Enrico che ci saremmo concentrati su una malattia rara nello specifico. Io parlo di emangioma infantile perché appunto ha preso il via la campagna digital con influencer e mamme blogger per sensibilizzare sul tumore benigno più diffuso tra i bambini. Appunto, l'emangioma awareness digital, l'emangioma infantile, conoscerli per gestirli al meglio. Che cos'è questa campagna? Beh, è una campagna dedicata sostanzialmente ai genitori ma non solamente ai genitori. Ecco, l'emangioma infantile è una lesione vascolare benigna che interessa soprattutto appunto i bambini che si manifesta alla nascita o più facilmente nelle settimane successive alla nascita. È una lesione, come dicevo, benigna, però necessita di un'adeguata presa in carico e questa presa in carico può avvenire solamente tramite un adeguato riconoscimento di quella che è la problematica e quindi poi di una facilitazione del percorso che in certi casi richiede anche la terapia perché l'emangioma regredisce spontaneamente nella maggior parte delle situazioni, però in una percentuale di casi necessita di una terapia che di solito è farmacologica. Quindi quello che abbiamo voluto fare appunto con l'evento dedicato agli emangiomi e con la campagna di awareness di cui ho parlato è proprio quello di promuovere un'adeguata informazione ai genitori che non devono trascurare questo segno sulla pelle dei bambini, ma anche una corretta formazione ai medici di famiglia e soprattutto ai pediatri che attraverso l'utilizzo di strumenti come la scala Ires possono valutare nella maniera più accurata queste lesioni e eventualmente, come dicevo prima, in un modello ben stabilito, trasferire il paziente allo specialista che può continuare a seguire appunto il caso specifico, quello che necessita di trattamento. Ricordiamo anche che la campagna oltre a essere stata ideata da Omar in partnership con Fattore Mamma, che è un gruppo di mamme attive sui principali canali social, influencer, mamme blogger, che si occuperanno da qui a sei mesi di informare, come ha detto Orzes, su quelle che sono ovviamente le specifiche della malattia. Le volevo chiedere questo, l'utilizzo effettivo dei social e di quanti si stanno mettendo in gioco dal punto di vista privato può davvero agevolare quello che è l'andamento di questa campagna, ma soprattutto quello di cui parlava, quindi la sensibilizzazione? Certamente i social sono uno strumento molto importante, sono anche mamme a doppio taglio, quindi vanno usati nella maniera corretta. C'è il rischio magari che si informi in maniera non corretta, quindi magari a chi possiamo affidarci quando navighiamo sui social e cerchiamo informazioni, riconoscere le campagne adeguate, quali sono quelle ufficiali effettivamente da cui possiamo trarre delle informazioni corrette? Certo, ecco, nel caso degli mangiomi che abbiamo citato prima è un esempio paradigmatico perché osservatore malattie rare è una realtà ben nota ormai, attiva da più di dieci anni, è una testata scientifico divulgativa molto attenta appunto all'ambito delle malattie e dei tumori rari. È il fatto che in collaborazione con fattore mamma si sia spesa per una campagna social è una garanzia di affidabilità. Infatti quando ovviamente il cittadino si muove sui social deve prestare sempre attenzione alle fonti, al riferimento ovviamente che viene utilizzato proprio per andare in cerca di informazioni quanto più possibili, attendibili e verificate. Certo, è chiaro. Allora Orzes, leggo che effettivamente c'è anche insieme a questo, quindi all'essere seguiti e supportati da dei privati, quindi magari questo restituisce anche un po' di sicurezza a tutte quelle famiglie che si sentono insicure di fronte a una malattia che magari non conoscono. Oltre alla comunicazione è previsto anche un sostegno psicologico. Quando si parla di malattie rare, effettivamente quanto è importante poter prevedere un sostegno psicologico che affianchi non solo il paziente ma anche le famiglie che vengono in contatto per la prima volta con questo tipo di malattia? Lo è nella maggior parte dei casi, lo è quasi sempre, perché comunque una diagnosi di malattia rara è una diagnosi che può lasciare scombussolato il paziente, perché di fronte alla rarità si pensa che manchino ovviamente le terapie, ci si sentono davvero tagliati i cuori ed è per questo che è importante, come dicevo prima, la multidisciplinarità e all'interno di quella multidisciplinarità anche la figura di uno psicologo, di un consulente psicologo appunto che si avvicina al paziente nel momento in cui viene posta questa diagnosi e successivamente anche nel corso del cammino. Anche, e lo dico con riferimento proprio al discorso degli emangiomi infantili, qui parliamo di bambini molto piccoli e di genitori che si trovano subito a dover affrontare una problematica che, lo voglio ripetere, è risolvibile nella quasi totalità dei casi. Però, essendo una problematica anche con delle conseguenze estetiche, in certi casi funzionali, è importante che il genitore possa affrontarla nella maniera migliore e in questo caso anche riferirsi al sostegno di uno psicologo che lo aiuti ovviamente a gestire al meglio anche sul piano emotivo e psicologico le proprie risposte. È chiaro, tra l'altro ricordiamo che comunque in questo senso si stanno muovendo anche le istituzioni, il sostegno psicologico è stato inserito, verrà inserito e poi approvato, lo ha dichiarato pochi giorni fa il ministro Speranza, nel decreto milleproro che quindi magari appunto si sta sempre di più andando verso questa direzione, non solo per quello che riguarda delle malattie specifiche, ma in generale si fa sempre più riferimento a quello che è il benessere della mente perché lei poi, mi potrà dire di più, la mente conta moltissimo anche quando si affronta un periodo di questo tipo, una malattia di questo genere, soprattutto quando si trova di fronte a qualcosa che non si conosce e che gli specialisti effettivamente talvolta fanno fatica anche a riconoscere. Naturalmente sì, io aggiungo una nota personale, ho avuto la possibilità come giornalista di intervistare anche molti pazienti e tutti loro mi hanno sempre lasciato qualcosa e li ammiro per la forza con cui affrontano delle situazioni che suicidano interrogativi, suiciderebbero interrogativi in ognuno di noi. Quindi anche appunto il paziente con malattia rara è un paziente che affronta davvero un cammino diverso, un cammino con molti interrogativi in tanti casi e è importante appunto che li sosteniamo nella maniera migliore anche proprio perché riescano ad attingere a quella forza necessaria appunto per proseguire in quello che è il loro cammino terapeutico. Orde sono in chiusura, lo ricordiamo che la campagna è Mangiomi Infantili, conoscerli per gestirli al meglio è stata patrocinata da CP, Associazione Culturale Pediatri, la FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, la SIDERP, Società Italiana di Dermatogia Pediatrica, SIN, Società Italiana di Neonatologia, SIP, Società Italiana di Pediatria, e SISAV, Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari, ma soprattutto è stata presentata in occasione della ventunesima giornata mondiale contro il cancro infantile che è ricorsa appunto il 15 febbraio scorso. Non credo di sentire Orzez, eccolo appunto. A supporto Orzez di questo quanto sia importante il valore anche di questa giornata contro il cancro infantile. Finora abbiamo ovviamente parlato del Mangioma, che è un tumore benigno, però ecco insieme a questo ci sono moltissime altre patologie che invece non lo sono e in questo caso l'importanza di una giornata nazionale dedicata per la sensibilizzazione e anche per la conoscenza, perché parliamo di sensibilizzazione, ma conoscere qualcosa che ci spaventa molto spesso e qui mi collego a quello che dicevamo prima, è importante per poter affrontare, sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista poi ovviamente medico. Certamente sì, e infatti a questo proposito voglio aggiungere che giusto un paio di giorni fa Osservatorio Malaterale ha lanciato la campagna The Rare Side, che è giunta alla seconda edizione, l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, perché racconta, cioè ci permette di raccontare le storie appunto dei pazienti, storie che nella loro semplicità ci mostrano come queste persone, al di là del concetto del supereroe ovviamente, siano persone normalissime che affrontano problemi estremamente quotidiani. La campagna The Rare Side ci permette appunto di vederli in una luce completamente diversa, cioè come persone che non debbano per forza essere considerate speciali o diverse, ma come persone come chiunque. Questo è un valore aggiunto perché ci permette di andare oltre i sensazionalismi, di normalizzare quella sensazione di ovviamente, sì, lei ha definito specialità, ma una situazione che non riusciamo a comprendere talvolta e quindi renderla del tutto chiara e semplice e predisporsi anche nel poterla affrontarla a meglio. Prego, scusi se vuole aggiungere qualcosa. No, 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 quello che ha detto è esattamente così, la normalizzazione e la scelta di un linguaggio anche molto semplice e molto diretto per percepire proprio la quotidianità di un vissuto che è quello appunto che accomuna tutti quanti. La ringraziamo moltissimo Enrico Orders in collegamento con noi questa sera, grazie per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito e per aver contribuito ovviamente a parlare di questo argomento. Grazie e buona serata. Grazie a voi, buona serata. E tra poco, ultima parte di Una Mela al Giorno, noi ritorniamo tra due minuti di pubblicità. Grazie. Grazie. Grazie.